Ciao a tutti, sono Fabio Curto, sono nella meravigliosa libreria di Mario Caligiuri, qui è veramente come tuffarsi un po' nel tempo, ancora non so se ce la farei a finirli in una vita, io poi sono un po' pigro, però sono molto contento di essere stato coinvolto in questa manifestazione, stasera a vent'anni dall'invenzione della Notte Bianca, che ormai è una cosa che si fa ovunque, spesso ospita concerti, esibizioni, sono contento di essere dei vostri stasera e presentare il mio nuovo brano, che è sentito La Via d'Acqua, uscito ad aprile, e che sia un modo per rivederci presto con uno spettacolo in band, e lo spettacolo che stiamo portando in giro per l'Italia.